Da oggi si ripascia anche con questi pacchi, comodo formato sollevabile, che possono fungere da scogli o da ghiaia da liberare in un secondo momento. È la novità di quest'inizio primavera e fine inverno. L'Umana e Sirolo gemellate con Cingoli. Questo è il Monte Cingoli, oggi è un promontorio che si erge sulla spiaggia tra il fiume Musone e la stupenda riviera del conero in fondo. Ecco qua, la famosa terra di Cingoli piena di graniglia, poltiglia varia. Ed ecco qui abbiamo i famosi pacchi dell'altro giorno, ci chiedevamo cosa servissero, avevo già intuito più o meno che potessero essere usati a modo di scogliera naturale piena di ghiaia. Sono stati legati in maniera tale che il mare non se li porta via tutt'al più, dentro sono pieni di ghiaia.